serie tv di notizie i produttori della serie netflix basati sul manga e sull'anime di successo sono pronti in caso di rinnovo per una stagione 2 la serie di live action basata su un pezzo che è arrivato su netflix il 31 agosto sta già consolidando il suo successo in pochi giorni nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre quindi in soli 4 giorni ha accumulato 18,5 milioni visualizzazioni da arrempando la top 10 globale di netflix e national one 84 paesi in tutto il mondo impossibile non pensare a una seconda stagione sebbene un secondo ciclo di episodi non abbia ancora ricevuto il vano definitivo da netflix ci sono eccellenti notizie i produttori hanno rivelato alla varietà che le sceneggiature della stagione 2 sono già pronte e hanno anche fatto una previsione del rilascio dei nuovi episodi un pezzo quando una seconda stagione potrebbe uscire marty adelstein co tomorrow studios che produce l'azione live di un pezzo in collaborazione con il creatore del manga aikiro oda e dell'editore shueisha detto a variety che ha già le sceneggiature dei nuovi episodi pronti non può essere avviato fino a quando lo sciopero degli attori dell'unione saga after non sarà terminato ma come sottolineato il presidente tomorrow studios becky clemens una volta avviati i nuovi episodi potrebbe trasmettere in streaming circa 1218 mesi dopo se ci muoviamo molto rapidamente questa è una possibilità aggiunti clemens a che punto sono i negoziati con netflix i produttori sono molto fiduciosi in un rinnovamento dato che i risultati hanno persino superato le aspettative pertanto la famosa maledizione degli adattamenti dal vivo dall'anime finora tutti gli esperimenti falliti questo è il caso di cowboy be pop prodotto dallo stesso domani studios è cancellato meno di un mese dopo il debutto con il supporto di netflix ci aspettavamo che un pezzo sarebbe diventato il numero uno e abbiamo sentito che le loro ricerche e algoritmi probabilmente prevedevano questa possibilità ma dopo il lancio eravamo ha detto che abbiamo superato le aspettative il che è fantastico ha spiegato clemens penso che netflix stia cercando di capire quanti episodi ordinare e se dividerli penso che avremo notizie nella prossima settimana o tra due settimane sembra che ci sia un grande slancio per continuare su questa strada e svilupparsi a lungota strategia quindi stiamo solo aspettando questo ha affermato ad el stein il risultato positivo dei negoziati dipenderà anche da quanti altri spettatori saranno in grado di coinvolgere la serie nelle prossime settimane l'obiettivo è concentrarsi sulle famiglie e il pubblico che non aveva familiarità con il manga e l'anime ciò che dovrebbe accadere è un'espansione del pubblico stiamo coinvolgendo molte famiglie questa è davvero la chiave che coinvolge non bane persone che non sono a conoscenza del franchise perché lo spettacolo è autonomo convince anche le persone toluc contro di lui ha concluso ad el stein però te